diplomatasi negli anni 40 all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Debutta in teatro con la cena delle beffe nella compagnia di Annibale Ninchy. Nel 1965 è stata insignita con il premio Sangenesio per l'interpretazione teatrale della venexiana. Debuttò in televisione nel 1954 in delitto e castigo. A dirigerla fu, in quella circostanza, il regista Franco Enriches. Quattro anni dopo, nel 1958 prese parte come interprete alla trasmissione Il teatro dei ragazzi. Ha dato la voce alla gallina Trick Track, programma per bambini di Guido Stagnaro. Come interprete caratterista per il cinema ha lavorato in film di qualità con registi di vaglia come e. Ad esempio, Pupi Avati, Ettore Scola e Pasquale Festa Campanile. Ha interpretato anche film di serie B e film della commedia all'italiana. In Acapulco, Prima Spiaggia, a sinistra impersonava la madre dell'attore Andrea Roncato. Come attrice di teatro ha lavorato con Vittorio De Sica. Liola, Franco Enriches, La Locandiera, Il Gabbiano, Giorgio Streller. Per tre anni Madame Peecume nell'opera da tre soldi. Con Domenico Modugno e Milva. Per il Teatro Verdi, Trieste, nel teatro stabile Politeama Rossetti ha debutato nel 1972 come Cecilia nella Principessa della Ciarda con Elio Pandolfi. Nel 1974 la Principessa Elisabetta di Kuddenstein in Graffin Marizza. La Contessa Marizza, di Emerice KLMN con Leopoldo Mastelloni e nel 1975 Pomerania nel Paese dei Campanelli con Aurora Banfi, Elena Baggiore e Sandro Massimini. Ha fondato il Teatro Popolare di Roma insieme a Piero Nuti e Maurizio Scaparro. Dal 1984 interpreta il monologo Erodiade. Riscritto per lei da Giovanni Testori. Negli anni della senilità, trasferitasi a Torino, rimane attiva prevalentemente in teatro. Conducendo ormai una carriera artistica 65-annale. Nel 2008 esce a piedi nudi nel teatro. Una divertente autobiografia in cui racconta aneddoti e incontri di una carriera variegata ed eterogenea.